Benvenuti, ho deciso di cambiare location, quest'oggi lo faccio a destra per gli asmini del video. 4 passi per dimenticare l'ex, 4 modi, 4 principi, 4 fondamenta per riuscire a dimenticare l'ex, per riuscire a scordare completamente l'ex. Io sono Federico Picchianti e ti ricordo sempre di iscriverti al canale e che questo è il mio libro che ne trovi tanti altri come questo se cerchi sulla pari di cerca di Amazon il mio nome e cognome. Ti ricordo sempre che in descrizione trovi anche i link per le mie consulenze private e per tutti gli altri servizi che ci sono. Ma veniamo a noi, di che cosa sto parlando? Sto parlando di 4 passi per dimenticare l'ex. Ci sono dei principi, tra l'altro ho scritto anche un libro riguardante questo, il libro si chiama Sotterra l'ex, lo trovi su Amazon, che praticamente ti dicono, ti danno delle linee guida che puoi rispettare, cioè delle linee guida che puoi usare proprio per riuscire a scordarti di quest'ex. Nel senso poi scordarti. Non vuoi dimenticare, ma più che altro vorresti elaborare il fatto che la tua relazione sia finita. In pratica è come se fosse un lutto, tra virgolette, però diciamo che acceleriamo questi tempi di recupero, eh? Ok? Piuttosto che magari, ecco, se ci focalizziamo sul superamento di un lutto, un lutto o un'altra storia. Quindi quali sono questi passi? Sono 4, iniziamo ovviamente dal più, insomma, pesantino, forse, quello più richiede una sorta di anche attenzione da parte tua. Allora, sto parlando dello scrivere. Allora, prendi anche qua un blocco note come questo che uso io, magari puoi prendere appunti, è una circostanza che non prendo più appunti ormai, però ce l'ho ancora ancora, anzi, semmai, scrivilo i lati, tutti i lati negativi. Infatti almeno una lista di 10 lati negativi. Trova 10 lati negativi di quella persona, fisici, tratti caratteriali, tratti ambientali, del contesto sociale della persona. Trova qualsiasi cosa, anche la cosa più stupida, come è cresciuto, perché è cresciuto così, perché non è educato, perché è quella... Trova tutti questi lati negativi di quando stavi con lui e anche i suoi lati negativi, in generale, nel perché non ci dovresti stare, nel perché questa è una persona che va in completa distanza, con te. Fanno una decina, datti un limite, al massimo 10 o almeno 10 e ricordati questa lista, mettitela da qualche parte che ti ricordi, non serve ci metti sopra il nome di lista negativi dell'ex, magari avete qualcuno, però mettila da qualche parte dove comunque la ripieni, magari nel portafoglio, nella borsa, proprio sì. Poi c'è la seconda cosa da fare, che è quella più facile, più semplice, più stupida. Bloccalo dappertutto, almeno per un lasso di tempo, da 0 a 10-12 mesi, ok? Devi bloccarlo per 0-12 mesi, dopo 12 mesi qualcosa di buono sicuramente l'hai fatto, si spera nella gran parte dei casi, ma datti almeno un tempo di 12 mesi e poi rivedi se dopo 12 mesi ancora stai pensando a quella persona. dopo che l'hai bloccata per 12 mesi, io penso che tu se la blocchi davvero per 12 mesi e fai quello che ti suggerisco, te la sei completamente scordata da quella persona, sei dimenticato dell'esistenza di quella persona, sulla faccia della terra. E poi il terzo, ti devi aprire a delle nuove potenziali esperienze, ti devi aprire al dating online, ti devi aprire a Instagram, ti devi aprire a Facebook dating, ti devi aprire a Tinder, ti devi aprire a tutte queste app di dating online, ti devi aprire al sociale, ai cerchi sociali, ad andare nel cerchio sociale, a fare cose che ti piacciono, a fare cose che ti possono dare qualcosa di soddisfacente per te, che ti possono far sentire quasi realizzata, sentire realizzata, parzialmente realizzata, totalmente realizzata o realizzata. Fai queste cose, ok? Ad esempio iscriverti a un nuovo corso, cucina, salsa, equitazione, quello che sia, usare app di cerchi sociali online, ci sono anche app per quello, per conoscere altre persone all'interno di un cerchio sociale, cioè ormai oggi c'è veramente di tutto, tuttavia da donna puoi usare Instagram, se non sai come usare Instagram o una consulenza privata, ne possiamo parlare in consulenza, quindi vai nel link in descrizione, non ti preoccupare, ci sono tantissime opzioni, ok? Poi, 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 evita i posti, le situazioni e le esperienze che ti ricordano di lui. Se giocavate sempre insieme, se vi guardavate sempre insieme a Netflix quella serie di V, e ancora non l'avete finita perché vi siete lasciati, cancella quella serie di V dalla tua memoria, cancella l'inabbonamento a Netflix, non ti guardare quella serie di V che ti ricorda lui. Cioè, alcune cose non le puoi fare perché magari sei al lavoro con lui, lavori con lui, e quindi lavorando col tuo ex sicuramente la situazione sarà più difficile, tuttavia ci sono delle cose che puoi fare, ovvero puoi cancellare completamente delle cose, delle quotidianità, delle attività quotidiane che tu facevi con lui e che ti ricordano lui, puoi sostituirle, sostituiscile, fai un cambio di abitudine, fai un cambio di prospetto, di routine, di mattina, di percorso, di quello che fai, fai un cambio di tutte queste cose, fai un cambio di percorso al lavoro, se andate sempre al lavoro insieme, fai un cambio di... Prova a switchare queste cose, cambia dove puoi cambiare, insomma, però non far sì che queste cose siano sempre presenti all'interno della tua routine, perché se all'interno della tua routine ci sono degli atteggiamenti, o delle cose che ricordano, ok, quella persona, sicuramente non vuoi andarle a fare, mi sembra abbastanza semplice, perché ti rimandano a livello memoriale la persona con la quale stai prima. Dunque, vedo sempre che trovi il mio link in descrizione per eventuali consulenze, quindi clicca in descrizione, iscriviti al canale e questo libro insieme a tanti altri per uomini e donne li trovi su amazon.com scrivendo il mio nome e cognome sulla barra di ricerca di Amazon. Noi ci sentiamo al prossimo.